Il Pride è un'emozione grande qua a Reggio Calabria dal momento che è il secondo anno che lo facciamo. E che dire, ringraziamo tutto il popolo regino di averci ospitato qui questa sera e speriamo che vada ancora meglio per tutta la serata. Cosa vuol dire essere una star come te? No, no, io non sono una star, sono una semplice draquina che fa divertire la gente. In questo momento sei una stella cometa, stai portando la Londa Pride alla sua conclusione, come ti senti? Ma è emozionato sicuramente, anche stanco perché si muore di caldo anche oggi. Allora buon Pride e buon proseguimento. Grazie a te, una buona sera da tutti, un bacio, grazie. Grazie a te, una buona sera da tutti.